e ciao a tutti ragazzi sono leonas e quest'oggi siamo tornati su dragon ball z ad hoc ambatto versione jap per il quindicesimo episodio della sfida descritta ragazzi quest'oggi andremo ad affrontare l'evento di goku super di quarto livello con il team super fisico ragazzi quindi come quello di ieri questa è una sfida con il type a sfavore ragazzi quindi sarà molto complicato però come sapete il mio team fisico ragazzi non è messo male a parte questi due personaggi sono free to play però questa è d'ability 2 questo vabbè è d'ability free però è sempre trunks lr questa è d'ability 1 raga vi ricordo e vabbè lui vabbè lasciamo perdere non sto qui a dirlo comunque ad ability free purtroppo rispetto al global che ce l'ho ad ability 2 però ragazzi è davvero molto molto buono come team soprattutto gli llr e veget fisico ragazzi che è ad ability 2 siamo messi molto molto bene vabbè quei due free to play sono la full ability ma lasciamo perdere per forza essendo free to play vanno portati a full ability quindi ragazzi vi direi che possiamo partire subitissimo con il nostro goku quarto livello con il quindicesimo quella quindicesima sfida è agli iscritti ragazzi non troveremo facilmente il leader lo ammetto non lo troveremo se non lo troviamo prendiamo un altro gogette lr raga purtroppo no non ci vi giuro non ci posso credere cosa ho visto cosa ho visto raga cosa ho visto allora nei free hand c'era goku quarto livello per chi ha visto il video di eric per chi non ha fatto vada subitissimo a vederlo ci sono stato 15 20 barra 20 minuti a cercarlo e non l'ho trovato vi giuro non l'ho trovato non l'ho trovato raga roba dell'altro mondo re dell'altro mondo gothings super secante del fisico sarà la stessa cosa ci scommetto non lo troveremo mai saremmo stretti a prendere gogetta fisico lr sicuramente sicuramente ci darà un vantaggio questo non tanto per i hp ma perché abbiamo due lr del genere in più che sicuramente non fa male però ragazzi non è colpa mia come vedete non troviamo lr leader guardate eccolo qui goku quarto livello non ci credo l'ho trovato adesso quando registro un altro video io lo dico sempre ragazzi il gioco è bastardo perché quando ti serve un personaggio nei free hand non lo trovi mai quando non ti serve te lo danno sempre io non ci credo io non ci credo gothings super secante del fisico non si trova ma scommettete se cambio se in un altro video cambiamo totalmente argomento lo troviamo ci scommetto raga ci scommetto scrivetelo qua sotto nei commenti se ho ragione scrivetemelo perché sicuramente è così guardate l'abbiamo già trovato un altro di goku quarto livello se ci avete fatto caso va bene raga non lo troviamo prendiamo un gogetta quarto livello con un gogetta lr e magari anche ad abiliti che non farebbe assolutamente schifo questo è di abiliti free questo è di abiliti free forse questo no e invece si raga di abiliti free guardiamo magari un altro due refresh se lo troviamo sarebbe gradito un eccolo qui raga questo è di abiliti 1 ottimo per chi non lo sa è il gogetta fisico lr da un 100% di boost anche ai fisici quindi ottimo da se non mi sbaglio sempre 3 key o 2 key si da sempre 3 key raga ah no non del 100% ma del 90% scusatemi mi sono imbrogliato con go super si anterelle r che vabbè dà il 100% di boost attack quindi vabbè lasciamo perdere questo ragazzi il mio team è super fisico team molto molto buono qualche personaggio deve salire di abiliti ma non l'ho trovato per esempio anche gothings stesso dovrebbe salire di abiliti ma ragazzi direi che per questa sfida va più che bene ragazzi direi di partire subitissimo per questo quindicesimo episodio della sfidescate ragazzi vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link alla pagina instagram mi raccomando seguitemi seguitemi mi raccomando intanto prendiamo più chi possibile e trovate anche il link alla pagina discord il link al canale discord dove parliamo tutti i giorni di di dragon ball ovviamente magari anche di token assolutissimamente raga magari di tutte le nuove news che ora è subentrata della news di dragon ball heroes che arriverà il suo anime quindi ragazzi in mare di tutte queste cose ci possiamo parlare benissimo e magari che ne so se non trovo il leader posso chiedere a qualcuno di voi se mi presta diciamo il friend e mette il leader giusto e magari potrei portarlo anche in un video chi lo sa chi lo sa questo ovviamente lo decidiamo insieme nel gruppo stesso ragazzi che ovviamente è il gruppo ufficiale del canale del mio canale ecco del nostro canale ho visto ragazzi che in quest'ultimo periodo il canale sta andando davvero tantissimo infatti vi ringrazio di cuore che è tutto davvero vi ringrazio perché non me lo sarei mai aspettato lo ometto non me lo sarei mai aspettato di questa grandiosa diciamo affluenza sul mio canale davvero ragazzi è un qualcosa di davvero bellissimo per me vi ringrazio davvero tantissimo siete i migliori davvero lo siete in tutto e per tutto davvero vi ringrazio ancora e vi ringrazio soprattutto per tutto il supporto che mi date ogni singolo giorno vi ricordo che oggi che oggi si oggi arriverà il sesto episodio del team degli iscritti mi raccomando ieri è uscito il quinto e anche il quattordicesimo episodio della sfida di iscritti mi raccomando se ve li siete persi li trovate qua sul canale e ovviamente guardateli e mettete un bel like mi raccomando ragazzi ci conto siamo già ovviamente ragazzi alla seconda fase quella del giant tape che dovrebbe essere relativamente semplice in teoria se non mi sbaglio la seconda fase dovrebbe essere la seconda fase questa se non vado errato dopo ci dovrebbe essere quella di Goku se non vado errato non me lo ricordo nemmeno io nemmeno questo evento perché è da tantissimo tempo che non lo faccio però ci sta ci sta dai ci sta ok qui direi di mettere il nostro LR che tanka il nostro Trunks LR che non fa mai male guardiamo se magari fa anche la 18 ki ok non fa la 18 ki ma direi per un soffio direi e però fa la special il nostro Goku ultra estinto a free to play full ability guardiamo il nostro LR quanto danno fa dovrebbe farne un pochino anche se è un STR l'avversario ok qui dovremmo tankare in teoria infatti ragazzi 722 sono davvero pochissimi per fortuna abbiamo messo lui come bersagliere iniziale perché veniva bersagliato da 3 attacchi non da 1 quindi davvero ottima come scelta vabbè il Trunks LR non può mancare con un po' di dannetti abbiamo 380.000 HP che non sono affatto fuori raga considerato che è considerando il fatto che è un team fisico non è un metamore quindi ottimo ottimo davvero mettiamo i nostri personaggetti così sono perfetti vabbè Goku god fisico perché era un po' più di danni però ci sta ci sta e ci sta speriamo che non ci faccia la special magari contro quel personaggio però non è che mi interessa intanto abbiamo quasi 400.000 HP e non credo che ce li butti giù tutti in una special anzi massimo sciperà su 150k ma nemmeno quindi ci sta guardate ragazzi budget fisico ad ability 2 con il critico quanto ha fatto ragazzi contro un STR il personaggio davvero fortissimo ad ability 2 ragazzi già dimostra il suo vero potenziale la guardate l'ha quasi shottato solo lui ottimo 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 100.000 ci fa l'additional con la special se ci fa il critico ragazzi lo sconfiggiamo adesso abbiamo sconfitto ragazzi anche senza critico ottimo davvero ottimo siamo già ragazzi alla fase finale Goku Super Saiyan di quarto livello questa è la fase un pochino più difficile dell'evento no? dove abbiamo l'STR vera e propria la difficoltà vera e propria contro di noi ma che dire ragazzi vinceremo questa sfida? ma secondo me sì anche anche a perfect run che ne dite anche perché abbiamo i due LR che ci danno il recovery degli HP che ci refilleranno gli HP quindi probabilmente vinceremo questa partita guardiamo più che altro quanto tempo ci mettiamo ecco perché siamo già a 8 minuti di registrazione che è ottimo ci fa la special contro Gogeta quindi alla grande guardiamo se tankiamo ok ci ha fatto davvero poco raga perché se ce la faceva contro Trunks sui 100.000 ce li toglieva anche più assolutissimamente raga davvero vabbè lì tankiamo Trunks beccherà abbastanza danni forse contro ok raga 900.000 codi critico cosa? raga ma stiamo utilizzando un fisico un team fisico o un team agl perché non ci credo cioè non ci hanno fatto punti danni davvero assurdo ok vabbè qui lo mettiamo all'inizio scontatissimo guardiamo un attimo la build dei vari personaggi perché lui ovviamente l'ho fatto vabbè lui è scontato guardiamo god lui se non mi sbaglio non vorrei sbagliarmi ma non saprei lasciamolo così dai lasciamolo così anche perché 300.000 sono più che sufficienti per superare questa tornazione nel tal caso la prossima fase avremo la fusion di uno di due l'er probabilmente di entrambi perché abbiamo forse le tornazioni insieme primo counter 70.000 80.000 quasi quindi ottimo secondo counter con il critico 370.000 raga attenzione se gli fa un critico adesso probabilmente lo shottiamo anche con il prossimo counter guardiamo ok non l'ha shottato però ci fa l'additional ci fa l'additional raga attenzione ci fa l'additional ottimo 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 guardiamo ok counter se ci becchiamo il critico lo facciamo quasi fuori ok guardiamo ragazzi 620.000 con il critico raga contro un str ditemi voi se veget fisico super serian abiliti 2 non spacca il culo a tutti scusate il termine ma è così è così personaggio fantastico raga davvero davvero clamorosamente bellissimo e fortissimo davvero 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 anche go contro go ultra estinto avete visto nel suo evento quando l'ho portato qualche giorno fa nel jump ragazzi è troppo troppo utile contro le due fasi finale è troppo troppo utile con tutti i vari counter ragazzi è davvero mostruosamente forte che dire raga anche questa quindicesimo questo quindicesimo e questa quindicesima sfida agli iscritti l'abbiamo superata con successo purtroppo come nel video di ieri per chi non l'ha visto vada a vederlo adesso mi raccomando ovviamente prima finite di vedere questo e poi andate a vedere l'altro purtroppo come ieri ragazzi non abbiamo trovato il leader giusto però ragazzi lo sappiamo sono neogod che ormai i team monocolore diciamo quasi non vengono più utilizzati purtroppo perché i ragazzi sono davvero molto molto belli come team guardate per esempio questo ragazzi è un team che permette di giocare personaggi davvero molto molto forti non guardate questi due che lo inserite solo perché non ho di meglio perché sono a full ability perché sennò ragazzi questo è un team che davvero è molto molto potente davvero ragazzi ora non guardate che ho gothings super 6 ad ability free però molti ma molti di voi anche quelli che magari mi stanno guardando in questo momento lo hanno ad ability 1 anche 2 magari anche a full ability ragazzi quindi questo sarebbe stato un team fortissimo magari uno dei migliori team che avrei che diciamo che avrei potuto avere ecco se l'ho detto bene in italiano vabbè lasciamo perdere questo non è non sono di sicuro un genio in italiano lasciamo non con lui ma con il bombardiere di questa partita mi raccomando questa sera ci sarà il sesto episodio del team di iscritti mi raccomando non perdetevelo perché farò per così dire lo showcase di uno dei vostri team mi raccomando ragazzi non perdetevelo assolutissimamente mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un bel like e un commentino qua sotto condividete il video mi raccomando ragazzi ci conto vi ringrazio ancora per la visione e vi ringrazio soprattutto tutti coloro che sono arrivati qua giù in fondo siete i migliori noi ci vediamo questa sera e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti